E' scritta a parlare la Vicepresidente Castellone, prego. Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. Presidente, io le confesso che questo è il momento che io personalmente aspetto da due anni e cioè il momento in cui quest'Aula finalmente si ritrova a discutere un provvedimento che parla di sanità. In realtà mi sarei aspettata di vedere almeno oggi il Ministro, visto che è il primo decreto che parla di sanità. E io personalmente, Presidente, mi sono sentita sollevata, nonostante questo provvedimento fosse stato approvato due giorni prima delle elezioni europee in Consiglio dei Ministri, perché ho pensato finalmente il Governo ha capito che se c'è un'emergenza in questo momento nel nostro Paese è proprio l'emergenza liste d'attesa, perché non è di un Paese civile aspettare due anni per una mammografia o 18 mesi per una visita specialistica. E alla senatrice Pellegrino che dice che le liste d'attesa sono colpa dei cittadini che poi non richiamano per annullare. Io vorrei ricordare che forse dopo 18 mesi chi doveva fare quella TAC non c'è più, perché ha scoperto troppo tardi di avere una malattia. Io ero sollevata anche perché ho pensato che non può essere che si fa propaganda sulla pelle delle persone, perché vede, Presidente, dal diritto alla cura passa la differenza tra la vita e la morte. Il diritto alla salute non è come gli altri diritti, è quello più prezioso che c'è. Io ho anche pensato in realtà che quel provvedimento volesse essere una risposta all'approvazione frettolosa e scellerata della riforma sull'autonomia differenziata. Poi però cosa è successo? È successo che questo testo dopo diverse settimane è arrivato in Parlamento e ci siamo resi conto, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, che in realtà quel provvedimento era una scatola assolutamente vuota, cioè la realtà superava anche la più fervida immaginazione. Una scatola vuota perché erano stati intanto tolti i finanziamenti pure annunciati e promessi in conferenza stampa con la promessa che poi verranno inseriti in un disegno di legge, vedremo quando e semmai vedrà la luce. E' stato tolto lo sblocco delle assunzioni di personale che pure era stato annunciato scrivendo che poi si farà un nuovo calcolo di fabbisogno nel 2025 dopo aver approvato tre decreti ministeriali che non hanno una data di scadenza. Insomma, veramente in questo decreto non c'è nulla, anzi questa scatola è stata riempita di cose che peggiorano la situazione perché si sono aperte ancora più porte non solo al privato convenzionato togliendo anche qualsiasi vincolo di controllo ma anche al precariato con qualche emendamento che è stato approvato. Allora io per il suo tramite, Presidente, vorrei chiedere a questa maggioranza ma come si fa ad abbandonare così i cittadini, soprattutto i cittadini che sono nel momento di maggiore difficoltà nella malattia. Guardate, io ricevo ogni giorno decine di richieste e penso le riceviate anche voi, di cittadini che non riescono ad accedere al servizio sanitario nazionale. E ne voglio riportare solo un paio. Qualche settimana fa mi ha scritto una mamma di due bambini che hanno un disturbo dello sviluppo neurologico, raccontandomi che la prima bambina nata nel 2019 ha iniziato subito le terapie già nel 2020 ed ha recuperato gran parte di quella disabilità a cui era condannata. L'altro figlio invece è da due anni in attesa per essere preso in carico da un centro di fisioterapia e dovrà ancora aspettare almeno 18 mesi. E questa madre vede che questi due bambini hanno un futuro che è totalmente diverso e quel bambino lo stiamo condannando ad una vita con una disabilità importante ed è solo colpa di chi non ha il coraggio di investire in sanità. Qualche giorno fa mi ha scritto una donna che ha avuto un tumore due anni fa. Ogni sei mesi deve fare gli esami di controllo. Quest'anno gli è stato detto che se non vuoi aspettare la lista d'attesa perché incredibile ma vero, in alcune regioni anche le prestazioni per i malati oncologici hanno liste d'attesa, devi pagare tu l'esame diagnostico privatamente e sborsare 400 euro e questa donna non se lo può permettere. Come si fa ad abbandonare non solo i cittadini ma anche gli operatori sanitari? Quegli operatori sanitari a cui avevate promesso delle risposte dopo che sono stati chiamati eroi perché sono stati l'unico baluardo che ci ha aiutato nella gestione della pandemia. Una cosa si doveva fare, superare quell'odioso tetto di spesa per le assunzioni di personale che ha inserito il governo Berlusconi, un governo di destra, nel 2004. Vede, Presidente, spesso si dice che i politici sono tutti uguali e i partiti sono tutti uguali. Io rivendico che la forza politica a cui appartengo è l'unica che ha derogato a quel tetto di spese per il personale con il decreto Calabria. È stata la Ministra Grillo che l'ha previsto. Quel provvedimento poi è stato rinnovato in pandemia e ancora voi l'avete rinnovato ed è l'unica deroga che c'è al blocco delle assunzioni di personale. Così come siamo stati gli unici ad investire nel Servizio Sanitario Nazionale ingenti risorse perché erano stati sottratti al Fondo Sanitario Nazionale da tutti i governi di destra e di sinistra 37 miliardi di euro in 15 anni. Sa nel governo Conte quanti soldi sono stati messi? 13 miliardi di euro più 16 nel PNRR. E se oggi vi trovate il Fondo Sanitario Nazionale più alto di sempre è per i soldi che abbiamo messo noi, non per i due miliardi che avete messo che non servono nemmeno per pagare gli aumentati costi delle bollette. Avete tradito il personale perché ai medici del pronto soccorso avevate raccontato di voler dare più tutele, invece gli avete affiancato i gettonisti che lavorano poche ore e guadagnano tre volte tanto. Avete tradito gli specializzanti perché gli avevate promesso di togliere il vincolo che oggi gli impedisce di fare la libera professione e non l'avete fatto. Avete tradito i medici di cure primarie che sono già specialisti e vi chiedono di operare nell'ambito della medicina generale come previsto nel loro ordinamento ma voi non lo fate perché non vi volete mettere contro una potente lobby della sanità. Avete tradito quindi i cittadini, avete tradito gli operatori sanitari, avete tradito anche le opposizioni per carità rispetto al resto e l'ultimo dei problemi. Però ci avete tradito perché lo stesso ministro in commissione quando ha presentato il decreto ci ha chiesto una mano, ha detto lavoriamo assieme per migliorare questo provvedimento e noi ci abbiamo creduto, abbiamo depositato emendamenti puntuali che avevano tre obiettivi trovare più risorse perché le risorse ci sono, lo sapete, è solo che scegliete di metterli per esempio nell'aumento delle spese militari e io vi voglio ricordare che un F-35, faccio solo qualche esempio costa come 3.000 posti in terapia intensiva, un sottomarino costa come 1.000 ambulanze, scegliete voi se volete il sottomarino o le 1.000 ambulanze. Vi abbiamo detto di recuperare le risorse dagli extra profitti, dai sussidi ambientalmente dannosi, se non volete toccare quelli perché anche lì ci sono lobby importanti, si possono recuperare così come ha fatto la Francia, aumentiamo la tassazione sul tabacco, anche sul tabacco riscaldato, si possono recuperare 12 miliardi di euro che investiamo in sanità, questo coraggio ce l'avete o anche qui c'è una lobby troppo potente da toccare? Quindi avevamo detto di riperire risorse, di sbloccare il tetto per le assunzioni di personale e usare personale già reperibile, di rafforzare e spostare alcune prestazioni dall'ospedale al territorio copiando degli esempi virtuosi. L'Emilia Romagna sta gestendo i codici verdi sul territorio per svuotare il pronto soccorso, sta facendo sul territorio la gestione addirittura delle cure oncologiche, quindi copiate quegli esempi preziosi. La realtà, Presidente, è che voi avete bocciato tutto e le chiedo solo un minuto in più, perché volete trasformare la sanità in un bene di lusso e questo ormai è chiaro a tutti e per noi invece è inaccettabile che ci sia chi accumula fortuna sulle spalle del Servizio Sanitario Nazionale ed è inaccettabile che voi continuate a foraggiare il privato con risorse che togliete al pubblico con la scusa di rendere tutto più efficiente. Così state sperimentando nelle regioni che voi governate il progetto del pronto soccorso a pagamento, del medico di medicina generale a pagamento, state indebolendo la sanità pubblica che così non riesce più ad assolvere al mandato più importante che ha, che è quello di curare tutti indistintamente. Vede, Presidente, quando si rende la salute non più un diritto ma un bene di mercato, quando la salute diventa una merce, allora ci sono cure diverse per chi ha i soldi e per chi non ce li ha e chi non ha nulla non ha cure, infatti 4 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure. La distruzione che state operando nel Servizio Sanitario Nazionale però fa parte di quel progetto di disgregazione sociale che state portando avanti con l'appoggio di alcuni mezzi di comunicazione compiacenti che vi aiutano a raccontare questo smantellamento sociale come cosa buona. E così con voi la guerra diventa una missione di pace, la trasformazione degli ospedali in aziende che devono fare profitto diventa efficientamento, la precarizzazione del lavoro significa lavoro più flessibile, lo sfruttamento e il lavoro povero vengono raccontati come la fortuna di avere un lavoro, un qualsiasi lavoro. Siete riusciti a demonizzare una misura di sostegno alla povertà facendola passare come un privilegio per i nulla facenti perché voi non vi fate scrupoli a barattare per il vostro tornaconto elettorale i diritti di tutti e state togliendo abolendo il diritto alla tutela della salute, state togliendo alle persone la cosa più importante che c'è che è la dignità. Ma noi Presidente, chiudo, noi saremo qui a ricordarvi che curare i cittadini non è solo un vostro dovere ma è il diritto più sacro sancito dalla nostra Costituzione.